C'è il misterioso culto che è imperversa nelle nostre strade. Sapete bene cosa fare, signori. Seguitela e liberate Londra dalla minaccia. Sapete bene cosa fare, signori. Sapete bene cosa fare, signori. Sapete bene cosa fare, signori. Sapete bene cosa fare. Sapete bene cosa fare, signori. Sì. 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 Ottimo lavoro. Il capo è morto, come pure i suoi seguaci. Così è finita? Beh, la guerra continua. Allora abbiamo ancora altro da fare. Voi avete reso un grande servizio alla patria. Grazie. L'uomo ucciso da Lydia Fry era mio marito. Mio marito Aita, Renato. Era uno dei sacci. Grazie a te conosco il suo destino. Così posso completare il mio schema. Forse credi, come altri assassini in passato, che io sia una vostra nemica. Ma pensaci, è un assassino che mi ha liberata dalla prigionia. Non sono più con lei che attende. Sono la madre della saggezza. Sono il nesso fra carne e macchina. Io sono Giunone. E se il più grande assassino del tuo tempo lo ha capito, forse potrai farlo anche tu.